Siamo vestito da Babbo Natale e sono in compagnia di... Ma che cazzo? Sono in compagnia di... Ma che cazzo? Sono in compagnia di Lewy Era chiuso! Anche lui è un portafone di rinnovanza, infatti... Ma che cazzo? Questo... Ma che cazzo? Vai addosso, conosco io Mamma 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 Sfida Mamma 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque siamo arrivati in centro, adesso andiamo al punto di ritrovo, da vedere saranno tre persone, che figura di merda. Madonna quanta gente! C'era la neve! Oh, si sente bene, si sente anche a caldo. Questa cosa ce l'ha in sicurezza, non è in senso. Buongiorno. Buongiorno. Ti accendi, ti accostai a come sei e mi fai... Voi non avete idea di quanto cazzo si sente qua di... Guardate! Non è possibile! Quanta ignoranza in un video! Dio porca... Puttana drona! Questa barca! Porca troia! Questa barca! Non è possibile! Questa barca! Questa barca! Fai sì, ecco questa barcalla! è bellissimo bravo via mi sono accorto che mi sono accorto e che cazzo in i wanna be a you calmi down like xanis cos'i fiume nevino Sous-titrage Société Radio-Canada Petit Petit Nothing's always left vintage Petit 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 Gli organizzatori, cioè Full Throttle Team che vi lascio il link sotto in descrizione Seguitemi su... dove mi devono seguire? Seguitemi su Instagram Noi ci vediamo nel prossimo video È stato veramente un bellissimo evento Vi ringrazio, ringrazio a tutti quelli che sono venuti Sono stati bellissimi, alcuni anche brutti Noi ci vediamo nel prossimo video Sabato alle 14 Iscrivetevi al canale Mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto Condividete ai vostri friends E see you later guys Questa era proprio da finora Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Noi ci vediamo nel prossimo video Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Noi ci vediamo nel prossimo video